Fisicamente sto bene, perché comunque mi sono allenato, è un mese e mezzo che mi alleno, ho fatto la preparazione e comunque ho anche abbastanza ritmo partita perché ho fatto delle amichevoli pre-campionato e sono pronto per giocare. Fisicamente allego bene perché llevo un mese e mezzo entrenando e ho anche giocato partita amistosa in pre-temporada e fisicamente me encuentro bene. Más Alberto, vamos a echar breves, per esempio, per la traduzione e l'aprendimento. Simplemente, come se decidiria con l'aprendimento, se va a portar più arriva o va a portar più la profeta defensiva e si crede che su adaptazione a la liga può essere portare? Su? Adaptazione a la liga. Come ti defini come lanterare il tipo di più come difensore o più come attaccante e anche come credi che ti alzerai nella liga in questo gioco? No, come caratteristiche ho più la propensione ad attaccare, però giustamente sono un difensore quindi prima devo pensare a difendere e poi attaccare, però diciamo che riesco a fare bene le due fasi e ovviamente c'è sempre da migliorare, però mi piace molto andare in avanti. che come caratteristica le gusta giocare davanti, però sape che sua posizione è defensa e quindi e quindi procura difendere bene, che si adapta bene ai due che puoi attaccare e difendere. e che nada, irò migliorando poco a poco. Perchè conoscete il Granada e perchè ha fatto la offerta che lo vi ha motivato per venire? Perchè sapete il Granada della squadra e perchè c'è tutto l'offerto di venire qua? Penso che intanto sia un club con una grande storia e penso che per un giocatore, comunque al livello che ero io, sia difficile rifiutare una società come Granada. Quando mi hanno detto se volevo andare a Granada non ci ho pensato neanche 5 minuti, gli ho detto subito di sì perchè comunque per me è una bella esperienza venire a giocare in Spagna, conoscere la Liga e comunque con una squadra che porta una storia dietro di sé e quindi sono contento di essere qui e sono molto molto felice. Che è un club con una gran storia e che per un giocatore come è venire a Granada poi è un buono che non lo dudo neanche 5 minuti, in quanto lo hicieron la offerta dice che sì immediatamente, che sta molto contento di essere qui e che a lui che a lui mi piaceva conoscere la Liga Española e giocare qui e in resumen è questo, che vino sin dudarlo e sin pensarlo. La tua intenzione è farlo bene qui per tornare all'Inter o perché magari lo fai bene qui e puoi restare qui? No, sono appena arrivato, adesso non voglio pensare a dopo, voglio pensare adesso a giocare, a fare bene, a farmi conoscere dai compagni, dal mister e dalla società il prima possibile, imparare la lingua perché comunque è importante per relazionarsi con l'allenatore e con i compagni e penso a fare bene giorno dopo giorno negli allenamenti e partita dopo partita, poi a fine vedremo, adesso non voglio pensare. Che ora acaba di arrivare, che non sta pensando in l'ora, che non sta pensando in l'ora, che lo che vuole è conoscere bene a sui compagni, al entrenatore, a prendere il idioma per poter relacionarsi meglio con loro e che poi iremo viendo partito a partito e al final già si verà. Benvenuto Cristiano, mi interessa è quali sono i tuoi obiettivi che ti marca a nivel personal e poi per quello che conosci del club, cosa pensi che possiamo fare questa stagione? No, l'obiettivo personale è di mettermi a disposizione della squadra e dei compagni e di cercare di fare il mio meglio, sicuramente ogni allenamento, ogni partita darò tutto me stesso, al 100%, e con la squadra si spera sempre di fare il meglio che si può, di raggiungere l'obiettivo principale, il prima possibile e poi fare magari qualcosa di importante. che il suo obiettivo personale è fare lo meglio possibile, dare il 100% per l'equipo e poi dare lo meglio che possa, lavorare a dia a dia, e come obiettivo del equipo, in principio, conseguire il obiettivo più importante e poi tutto lo che venga a la squadra è meglio, come obiettivo, refiriendosi a la permanenza in tienda. Conosci lo stile di gioco dell'allenatorio di qua e se credi che puoi andare a te bene? No, sinceramente oggi faccio il primo allenamento e vedo. e comunque sono un giocatore che si adatta facilmente a quello che richiede l'allenatore perché li metto a disposizione sempre e comunque. Che la vera è che non, perché Abagna Agarò va a suprimere l'entrenamento oggi, però che è un giocatore che si adatta facilmente, che si pone a disposizione dell'entrenatore per quello che è l'entrenamento. No, no? Grazie!